Un cordiale saluto a tutti voi gentili amici, benvenuti alla seconda puntata di queste trasmissioni sul documento di Papa Francesco a Moris Letizia, esortazione apostolica post-sinodale sul matrimonio sulla famiglia. Nella prima puntata abbiamo presentato per linee generali il testo di Papa Francesco, tanto atteso non solo all'interno della Chiesa ma anche al suo esterno e adesso ci addentriamo nella analisi del testo, del contenuto di questo ricco documento. In modo particolare vogliamo vedere il primo capitolo intitolato alla luce della parola. È ovvio che il Papa si sofferma anzitutto sulla analisi della Sacra Scrittura, della rivelazione biblica in materia di matrimonio e di famiglia, cioè il Santo Padre si pone in ascolto anzitutto della parola di Dio e qui afferma che la Bibbia è popolata, dice al numero 13, la Bibbia è popolata da famiglie, da storie d'amore, da storie di crisi familiari, popolata. Tutta la rivelazione biblica in qualche modo è popolata per l'appunto da queste storie di famiglie. Pensate, la Bibbia comincia grosso modo con la storia di una coppia, Adamo ed Eva, e finisce nel libro dell'Apocalisse con le mistiche nozze tra la sposa che è la Chiesa e l'agnello immolato, immacolato, che è il Cristo. Quindi diciamo che dalla Genesi all'Apocalisse tutta la Bibbia è pervasa e percorsa dal tema del matrimonio e della famiglia. In questa prima parte il Papa Francesco segue il Salmo 128, che è un Salmo utilizzato sia nella liturgia nuziale ebraica, sia in quella cristiana, e che aiuta il Santo Padre a mettere in luce che la coppia maschio-femmina, di cui ovviamente si parla già nel libro della Genesi, riflette la vera immagine di Dio. Questo è un concetto di grande importanza. È Dio che ha creato la persona nella differenza complementare tra il maschile e il femminile, che non è una sola differenza anatomica, è una differenza globale che investe anche il temperamento, il carattere, le qualità morali, spirituali e così via. Quindi è nel DNA della persona umana questa diversità, complementare, questo essere diversi, ma nello stesso tempo completarsi a vicenda, tra il maschile e il femminile. Ed è peraltro da questa ricca relazione maschio-femmina che può derivare la procreazione, cioè il dono dei figli. Questo non l'abbiamo inventato noi. Questa cioè non è un'invenzione culturale, una scoperta dell'uomo. Questo è inventato da chi ha scritto alla natura. Per noi credenti è facile dire che è creato da Dio, è voluto da Dio. Per i non credenti si può comunque fare riferimento al dato naturale che è, come dire, inoppugnabile. Ma è bella l'interpretazione teologica di questo, cioè il Papa scrive che se noi vogliamo capire qual è la vera immagine di Dio amore, di Dio che in se stesso è relazione fra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, noi possiamo e dobbiamo in qualche modo guardare alla relazione della coppia, alla relazione tra il maschile e il femminile. Cioè il fatto che l'uomo sia immagine e somiglianza di Dio si vede tra le altre cose anche da questa capacità di relazionarsi nell'amore tra il maschile e il femminile. Per cui da questa relazione coniugale, da questa relazione di coppia, scrive il Papa, proviene poi la comunione, la comunità familiare. C'è prima la relazione coniugale e c'è poi la comunità familiare come conseguenza. Il cammino familiare indicato nella Bibbia, dice Papa Francesco, si presenta comunque non sempre come un cammino facile. La Bibbia non esita a presentare anche situazioni coniugali e familiari per vase da sofferenza e da sangue, scrive Papa Francesco al numero 20. Cammini quindi difficili nei quali bisogna fare i conti con le diverse difficoltà che attraversano la vita praticamente di tutte le famiglie. Al numero 22, sempre di questo primo capitolo intitolato alla luce della parola, Papa Francesco dice che la parola di Dio non si presenta come una sequenza di tesi astratte, bensì come una compagna di viaggio anche per le famiglie che sono in crisi o attraversano qualche dolore e indica loro la meta del cammino. Questo è molto bello, cioè la Bibbia non vuole solo presentare l'ideale perfetto della famiglia, ma la Bibbia si cala anche nelle situazioni concrete, le più difficili, prospettando qual è la meta del cammino e anche quali possono essere le possibilità. per risolvere le difficoltà. Il modello da seguire, prospettato dalla Sacra Scrittura, è il modello della Santa Famiglia di Nazareth, Maria, Giuseppe e Gesù. Famiglia Santa di Nazareth, scrive il Papa, che con la sua quotidianità fatta di fatiche e persino di incubi, come quando dovette patire l'incomprensibile violenza di Erode e quindi poi fuggire in Egitto, si ripete questa esperienza tragicamente ancora oggi, dice il Papa, in tante famiglie di profughi, di rifiutati, di rifugiati, di persone inermi. È molto bello questo paragone tra la fuga in Egitto di Maria, Giuseppe e Gesù Bambino e questo massiccio movimento, per così dire esodale, di immigrati, di profughi, di rifugiati che oggi segna la cultura contemporanea. Ecco, sempre in questo campo della prospettazione biblica, della fondazione biblica della famiglia, il Papa certamente scrive un concetto che mi sembra molto bello e molto importante al numero 16, quando dice che la costruzione della famiglia è artigianale. Questo termine poi tornerà anche in altri punti della amoris letizia. Artigianale significa che la famiglia si costruisce, come dire, con fatica, con una costante tessitura dell'amore coniugale, con una costante tessitura anche dell'opera educativa dei genitori nei confronti dei figli, figli che, e qui il Papa cita ancora il Salmo 128, sono chiamati a crescere come virgulti d'ulivo e cioè sono chiamati a crescere pieni di energia e di vitalità. Quindi la Bibbia ci offre le indicazioni anche concrete per questa faticosa ma anche affascinante costruzione artigianale del matrimonio e della famiglia. È un concetto, mi sembra questo, particolarmente importante perché, come dire, non esistono situazioni di famiglie perfette come non esistono situazioni di famiglie che non incontrano difficoltà nel proprio cammino. Le difficoltà fanno parte del cammino, perfino i litigi tra coniugi, io dico, fanno parte del cammino e non ci impressionano. La Bibbia ci aiuta anche a capire come si possono fronteggiare queste difficoltà e quindi come si possa porre mano a quella che il Papa Francesco definisce la costruzione artigianale della famiglia. Infine questo primo capitolo si chiude con l'indicazione della Vergine Maria che è il modello della sposa, della madre nel cui cuore, scrive al numero 30, ci sono anche tutti gli avvenimenti di ciascuna delle nostre famiglie che ella conserva premurosamente. Mi sembra che sia particolarmente suggestiva questa immagine che riprende ovviamente il testo lucano in cui si dice che Maria conservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore e allora Papa Francesco dice che in questo cuore della Vergine Maria certamente sono presenti gli avvenimenti di ciascuna delle nostre famiglie, sono presenti le sfide, le ansie, i desideri, i progetti di ogni famiglia e quindi ogni famiglia, è inevitabile dire questo, può contare sulla potente intercessione di Maria per proseguire nel proprio cammino anche quando questo cammino risultasse poco agevole o particolarmente difficile. Il primo capitolo che stiamo analizzando si chiude proprio con questo numero 30 e le parole precise del Papa sono queste, come Maria sono esortate le famiglie a vivere con coraggio e serenità le loro sfide familiari tristi ed entusiasmanti e a custodire e a meditare nel cuore le meraviglie di Dio. Nel tesoro del cuore di Maria, e qui è il concetto che avevo espresso in precedenza, ci sono anche tutti gli avvenimenti di ciascuna delle nostre famiglie che ella conserva premurosamente, perciò può aiutarci a interpretarli per riconoscere nella storia familiare il messaggio di Dio. Cioè questa mediazione per così dire mariana della vita familiare, questa capacità di vedere le difficoltà della famiglia nella luce del cuore di Maria costituiscono una ricchezza per le famiglie cristiane che sanno di poter contare, dicevo, sulla intercessione di Maria e anche sul modello che la Vergine Madre rappresenta per tutti noi cristiani. Bene, mi sembra che queste linee interpretative possano essere utili per una prima presa di coscienza della Amoris Laetitia. Nella prossima trasmissione noi analizzeremo il secondo capitolo, perlomeno analizzeremo, ritengo, una parte del secondo capitolo, perché il secondo capitolo è particolarmente ricco, è un capitolo che riguarda la realtà attuale della famiglia nel mondo e le sfide che vengono alle famiglie dalle culture oggi presenti nel nostro mondo. Intanto vi saluto cordialmente e vi ringrazio di avere ascoltato questa trasmissione.